E' rimasto a terra per oltre 20 minuti in attesa dei soccorsi. E' quanto accaduto questa mattina ad un 69enne giarrese che ha perso l'equilibrio cadendo sul basalto lavico mentre percorreva a piedi il marciapiede di via Pirandello, urtando con violenza il capo. L'uomo è stato prontamente soccorso da alcuni commercianti della zona che si sono accorti di quanto accaduto allo sfortunato 69enne. La vittima sarebbe rimasta a terra ancora dolorante e col volto sanguinante, secondo quanto raccontano i testimoni, per oltre 20 minuti in attesa dell'ambulanza, nonostante i vari tentativi di contattare il 118 anche attraverso l'intervento dei carabinieri. E' una vergogna, commenta un assicuratore che ha prestato i soccorsi. Da quasi mezz'ora attendiamo l'ambulanza. Solo pochi minuti fa, poco prima delle 13, è giunta, dopo varie sollecitazioni, una pattuglia della polizia locale. In una città senza ospedale e sistema di soccorso adeguato può accadere di tutto, prosegue l'assicuratore. Intanto sui social è esplosa l'indignazione di tutti, in particolare di chi, presente sui luoghi, ha assistito alla deplorevole scena. Tra i commenti, quello piccato di una giovane donna che su Facebook ha apertamente manifestato il proprio disappunto. Abbiamo appreso per telefono che i soccorritori dovevano arrivare con l'ambulanza da Santa Venerina e non potevano correre. Attendere per 20 minuti, prosegue la donna, è una vergogna e quel povero uomo era lì senza muoversi. Dello stesso tenore, numerosi altri commenti, in cui ancora una volta i cittadini manifestano la propria rabbia per l'assenza di un pronto soccorso.